Stava controllando il funzionamento di un quadro elettrico per trasformare l'alta in bassa tensione. Una mansione delicata che il giovane di 25 anni svolgeva all'ATEM di Lodi, azienda che produce materiale elettronico per le ferrovie dello Stato. Ma questo pomeriggio, per motivi ancora da accertare, l'operaio è rimasto folgorato. Immediato l'allarme è lanciato dai colleghi, che hanno sentito il rumore sordo della scarica elettrica e hanno subito capito l'emergenza. All'arrivo dei soccorritori, però, il giovane era già in arresto cardiocircolatorio. Il personale sanitario ha praticato le manovre di rianimazione e poi le ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Lodi, dove ora si trova in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e gli ispettori dell'Agenzia di tutela della salute per ricostruire quanto avvenuto e soprattutto per verificare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza nell'azienda. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza l'ambiente dove è avvenuto l'infortunio per evitare ulteriori fughe d'alta tensione e l'area è stata apposta sotto sequestro. Grazie.